Maltri domani sarà titolare e poi uno tra Quagliarella e Giovinco lo affiancherà. Siamo contenti comunque di tutti gli attaccanti e crediamo nelle loro qualità. Il problema goal è di realizzazione, però non ci preoccupiamo affatto perché costruiamo tanto e quindi quando una squadra costruisce ci sta anche che si sbagliano. Sinceramente penso che dopo 49 risultati consecutivi e pensando a quella che era la situazione della Juventus un anno e mezzo fa, le motivazioni vengono fuori da soli dopo una sconfitta. Sicuramente scenderemo in campo domani sera con la voglia di tornare ad essere la Juve che ha vinto contro tutti e che ha imposto il proprio gioco.